breve brevissimo non lo so quanto è breve ma si breve sono contenta dal mio instagram del mattino breve breve brevino ma ce n'è uno lungo lunghetto e che bello le calzette le causette della gloria pennati realizzate con raggio raggio abbiamo un filato perfetto per fare i calzini e sta lì non ne ho visto è il primo che vedo lavorare ecco io vorrei far tutto ma ancora non sono riuscita a fare tutto quello che ho in testa ma vi ricordate tempo tempo fa proprio all'inizio scusatemi di questa avventura campionai credo anche il raggio adesso già mi sono persa ne ho fatte tante e leddy che non so volevo andarvelo a vedere ma poca batteria non ho impiegato tempo leddy è un filato perfetto di quelli che si modificano tanto col lavaggio quindi campionare con il calibro che viene in mente che ispira a vederlo così e poi lavarlo e ricampionare con un mezzo e o anche un ca tutte e due staccati però non di seguito non si vedono bene le campionature quando sono attaccate e quindi tre campioni con il ferro che vi ispira immaginando di far calzini però quindi di lavorare in negativo però fatelo anche pensando poi ad un eventuale golf perché entrambi sia il raggio che leddy sono adatti a realizzare golfetterie e quindi però entrambi sono perfetti per i calzini il raggio è più morbido è poco torto insieme insomma è torto ma non tortissimo ha una mano diversa e leddy leddy a me è piaciuto tantissimo proprio mi ha entusiasmato leddy e me ne avete sentito parlare poco dopo perché ho fatto tante altre cose però se pensate di fare calzini in negativo la tensione vuol dire che deve essere un po più stretto rispetto a quello che sceglieresse per fare un bel golf diciamo perché dobbiamo realizzare un contenitore per il nostro piede e questo contenitore non si deve allargare una volta che l'abbiamo calzato deve mantenersi ben aderente al piede senza strizzettarlo senza umiliare il filato ecco perché non tutti i filati vanno bene per fare calzini perché devono essere filati elastici già in natura e oltre ad avere delle insomma altre caratteristiche insomma l'elasticità vabbè tante cose poi ne parleremo insomma è vero che possiamo realizzare causette con qualsiasi filato però bisogna anche pensare all'uso di queste causette sono calze da casa quindi che indossiamo io indosso le crocs in casa finte e quindi sono degli zoccoletti gommosi dalla pianta larga quindi ci posso entrare con qualsiasi calza stamattina ho di quelle calze di lana spese tre dita possiamo usare lana fioccosa quello che ci pare abbiamo lana calzette da divano che siamo solo per stare sul divano abbiamo calzette che mettiamo per andare a nanna ecco che a secondo dell'uso noi possiamo e dobbiamo scegliere i filati quindi parleremo di questi di filati di nuovo riparleremo di filati da calzini in rete ne troviamo tantissimi di specifici che hanno anche un loro costo allora potrebbe anche non piacerci far calzini abbiamo mille opportunità di apprendimento dalla punta dal tallone ferri dritti gioco di ferri quando dico il ferri dritti la coppia è perché anche il gioco di ferri sono dritti non sono storti quindi i ferri dritti classici i perri i gioco di ferri il magic loop i telaietti per calzini esistono e ce ne sono di diverse fogge i come si chiamano che ve l'ho già nominati tante volte in eco e parenti e vicini insomma questi pseudo gioco di ferri che sono dei boomerang ne abbiamo in metallo e in bambù e legno credo con una specie di snodo centrale questi boomerang e in eco che sono sia in bambù che in plastica io li ho in plastica che sono un po più stretti dei boomerang chiamo boomerang per farvi capire che sono piegati sono abbastanza elastici si spezza la plastica ecco come possiamo realizzare calzini anche a crochet quindi parleremo di attrezzi parleremo di tecniche e quindi potrebbe anche non piacere a tutti realizzare calzini perché no però diciamo che ce n'è per tutti possiamo scegliere un modello una costruzione che non ci fa penare e che ci fa divertire però ricordo appunto che ci sono questi meravigliosi filati anche autoriganti particolarmente studiati per essere elastici e compatti sono più che altro piuttosto sottili diciamo anche e che hanno un loro costo quindi c'è chi può vuole e può investire subito anche durante la fase dell'apprendimento infilati che sono anche super mega wow è divertente realizzare calzini con gli autoriganti quelli che creano emotivi man mano che si fa la calza che viene la rigghina di un colore la rigghina di un altro l'effetto puntini l'effetto plumetti aspettate che ora ve lo dico non mi viene in mente come si chiama mannaggia il piede pool ecco si formano diverse decorazioni chiamiamole così in piano e non in rilievo e sono belle ma costano hanno un prezzo e noi invece vorremmo fare calzini di quelli da indossare anche con le scarpe utilizzando filati che ci diano soddisfazione che ci diano retta e che ci vengano anche un po incontro economicamente e noi li abbiamo abbiamo raggio soprattutto adesso che raggio doppio perché raggio ce lo propongono single e a due capi prima non erano ritorti erano semplicemente appaiati ed è sono due cose diverse adesso sono stati torti tra loro i due capi quindi ancora più agevole la lavorazione non solo di calzini ribadisco non sono solo per calzini ma sono adatti a far calzini quindi il raggio che è lui è leggermente melangiato ha una bella luce e il prezzo non me lo ricordo perché so che sono stati ritoccati alcuni prezzi ultimamente è un 70 per cento lana sport la lana sport è una lana molto 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 adatta a far calzini anche quando la trovate al 100 per cento ve la farò rivedere ve l'avevo già fatta vedere 340 metri per cento grammi il 30 per cento in acrilico quelli che molti calzettari calzettare cercano il non 100 per cento naturale allora adesso questo ve lo mi è rimasto in mano lui è leddi è uno dei miei primi amori lo lo crea eddi è un filato guardate po ha più capi torti tra loro eccolo qua vediamo se mi metto a fuoco questo strampello non mi da retta vediamo vediamo un po ma ve lo apro aprite li filati e vieni qua se si interrompe pazienza ecco sono quattro capi di due colori ecco torto si gonfia lui si gonfia si compatta ma non avete idea riesce a fare tanti di quei gilet con questo filato qua allora leddi spero che sia ancora disponibile cercatelo è un 80 per cento merino extra e 20 per cento viscosa 600 metri per cento grammi tanti 600 metri sarà sbagliato ora lo richiedo tanto non ci ho mai fatto caso perché il raggio sono 340 adesso chiedo informazioni comunque andate sul sito controllate che sia ancora disponibile se così fosse e avete intenzione di fare calzini non perdetevi l'occasione perché sono filati veramente accondiscendenti ecco e poi soprattutto possiamo apprendere una tecnica utilizzando un filato adatto contenendo un prezzo il prezzo contenendo una spesa ecco poi ci possiamo lanciare dove vogliamo però ecco abbiamo il modo di esercitarci con dei filati che sono veramente anzi come gambe di colore come sono diversi e quindi i due vi danno risultati diversi al tatto come colore insomma bello sono contenta brava gloria felice felice con te le cause io amo le calze semplici le ho fatte lavorate però i calzini per me sono quell'oggetto di conforto che tutta più ecco mi ci esprimo col colore ma è un oggetto del del cuore della dell'affetto dei ricordi il calzino e quindi li voglio così come le ha fatti gloria a presto ciao e a presto quanti argomenti sono già stati proposti stamane